Assessore, a Milano ha detto che circa 5.000 sono stimate le persone che potrebbero beneficiare del REI. Sì, facciamo questa prima stima sapendo che è una misura nuova, quindi come tale andrà verificata concretamente. Comunque saranno sicuramente migliaia di persone a cui verrà dato un aiuto economico ed anche però un progetto per rialzare la testa o far sì che ad esempio il tema dell'accesso a diversi servizi, non solo quindi prestazioni monetarie, possa essere loro garantito. Oggi secondo una classifica delle 24 ore sulla qualità della vita però Milano perde punti rispetto al passato. Ma non lo so, io mi accontento di vedere che secondo le classifiche degli studi di ricerca Milano è la città d'Italia che investe di più in lotta contro la povertà, in azioni di sostegno a reddito e questo mi pare un grande segnale su cui continuare a investire. Grazie. Grazie. Grazie.